perché infatti chiuderemo questo intervento con l'ascolto di Elucevan Le Stelle dalla Tosca nella splendida interpretazione e con la splendida voce di Manrico Tedeschi che abbiamo avuto ospite, che ringrazio moltissimo. Grazie anche a voi tutti. Grazie al prossimo incontro. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.